Dopo la bruttissima, immeritatissima vittoria della Juventus con l'Inter 2, il Napoli che vince 2-0 con la Fiorentina, un grande Napoli che continua a fassugnare i tifosi per avere un posto in Champions e il Napoli che vince e adesso la storia diventa molto più complicata per la Juventus per avere il posto in Champions, sì o no, questa sega bisognava aspettare la partita. Una partita, solo una partita, era la partita più importante che finora un tifoso juventino voleva sapere. Milan-Cagliari, una partita dove Milan potrà segnare, potrà massacrare il Cagliari, ricordiamo che il Milan adesso è a quarto posto, sopra la Juventus di un solo punto, di un solo punto. Il Cagliari, quella squadra che si trova al sedicesimo posto, si trova sopra il Torino e sopra il Torino si torna anche altre squadre, anzi sotto il Torino si torna anche altre squadre. Ma se parliamo, sto tornando di una cosa, Milan-Cagliari 0-0, 0-0 questa partita, una partita che per il Milan era una partita d'oro e invece non l'hai saputa sfruttare alla massima maniera. E guarda caso, quest'anno, questa partita, vai a un punto. Un Cagliari che conquista un punto preziosissimo, un punto preziosissimo, un punto. Mentre la cara Juve, la cara, il caro Milan, il caro Milan, un punto sopra la Juve. Di un punto sopra la Juve, guarda se perdevi, se perdevi eri a 75, come la Juve invece, hai pareggiato di 76 sopra la Juve, 76. E quindi, adesso caro Milan, se ne guai, se ne guai. Non è detto che in Milan è guai, sappiamo che in Milan è una squadra forte, però l'ultima giornata in Milan incontra la Dea, l'Atalanta, con 78 punti se non va delegato. Quella squadra che è il miglior attacco della Serie A, una squadra che è andata per la terza volta di seguito, infine, in Champions League. E quest'anno è di nuovo entrata nella competizione europea di Champions League. della UEFA Champions League. E adesso il conflitto sarà Milan e Juve-Napoli. Napoli-Milal e Juve. Il Napoli sicuramente si qualificherà per la Champions. È una squadra che merita, è una squadra che gioca, è una squadra che sogna e quindi merita la Champions. Milan e Juve. Milan e Juve. Preferisco davvero sportivo che il Milan vada in Champions. Sì, ovviamente, ogni Juventino preferisce sempre la propria squadra del cuore, che vada sempre in Champions. Però, ragazzi miei, se in Milan dovresti andare in Champions, in UEFA Champions League, e la Juve invece va in Europa League e resti in quinta posizione, sì, avevo sempre il lato del vomito ogni giornata, lo so. Però da una parte ce lo meritiamo, da una parte ce lo meritiamo, perché in questa stagione non si è vista la Juve. Una Juventus, ragazzi miei, da vergogna, vergogna pura, vergogna di dieci all'ore. Una squadra che per colpa sua ha perso, più, ha perso quasi 6-7 partite, con squadre, ha pareggiato e perso con squadre che non si sa per quale motivo abbia perso. squadre che a posto di vincere a occhi chiusi, no, punti buttati, e buttati punti con i Cagliari, con i Benevento, con l'Atalanta, e lì, e là, con la Fiorentina, e con i Benevento, basta, basta Juve, basta. Alla fine ho sbagliato anche a fare ieri quel video di Juve e Inter tra due per la Juve. Che partita la Juve, ma che schifo ha fatto ieri la Juve, ditemi cosa ha fatto la Juve, non ha fatto niente, è vero, non ha fatto niente. Milan-Cagliari 0-0, Cagliari ci ha salvato, il mio in campo è Cagliari, posso dire Godin, Godin che ha salvato nel recupero un miracolo pazzesco. Prix Castigliano, copsu manzo Alex, manzo Alex che la tira, Godin un miracolo enorme. Mamma mia che sofferto anche questa partita. Però ragazzi miei l'importante è grazie a Dio, grazie a Dio, che abbiamo vinto ieri con l'Inter. Perché se noi con l'Inter paeggiamo o perdiamo, il gioco è stato un attimo. Ci eravamo giocati la UEFA Champions League. Però tutto è nelle mani di Juve e di Milan Di Juve e Milan Bologna-Juve, Atalanta-Milan Due partite mancano E per i Napoli manca anche il Verona Quindi Juve-Bologna-Juve Napoli-Verona e Atalanta-Milan Tre partite che possono dare, possono dire una cosa a ciascuna squadra di queste tre Un posto in Champions Milan, Juve e Napoli La Champions ti dice solo un posto E solo voi tre dovete per forza cercare di vincere e cercare di andare in Champions Però, ragazzi miei Se a Juve non vada non va in Champions Da una parte sono anche contento perché sono a merita Per tutti i punti che ha perso E da una parte godo anche per Agnelli Che ha perso Per Agnelli Miracolati 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 anche questa sera Ieri Miracolati E anche questa sera Da fino a fine bianconee ho detto tutto Ci vediamo domani Dopodomani Mercoledì la finale di Coppa Italia Juventus-Atalanta O Atalanta-Juve O Lavallo-Spacca Da fino a fine bianconee ho detto tutto Se ne forse a Juve Mamma mia Grazie a tutti